Buonasera maestro Buonasera maestro Maestro Questo è il vasara Ah, il vasana è quello Oggi parleremo del mantra Cos'è il mantra? Cos'è? E' un po' sai andre d'antra Cos'è? Composto da? D'antra, sono triangoli e scetra Eccetera Composti da triangoli e scetra Il Jabba Jabba Yoga Non si è capito eh però Non si è capito Vabbè, sentiamo Sarebbe dopo l'anno 1000 Cosa? Che addirittura si arriva al chakra Chakra? Che sono tre Sono tre? E vasara Che poi sarebbe Anche a fini spirituali Cosa c'ha in mano? Un magico Maestro E' strano, la vediamo un po' Maestro Che ha? Oh No Spirituali Si però O magici Non dovrebbe guardare il telefono O quantistici Eccolo In quei giorni In quei giorni Vasara Il vasara Io non ho capito ma In 5 secondi si possono esorbere tutti i problemi Che bello Che bello Pensavate che fosse Saskara? No 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 Dire la verità In realtà no Allora tenete per esempio Il vasara Ecco Me lo sono messo dentro più o meno in un secondo In che senso? Ve ne avevate accorti? No 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 Oggettivamente no Allora Fabio Maestro io mi chiamo Fabio Eh si chiama Fabio Ecco Si chiama Fabio Si Però noi lo vediamo come Franco Ma no Ma non credo Questo è il vasara Questo è il vasara Vedere Fabio come Franco Voi come lo vedete? Io Franco 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 Renato Ahia Vedi C'è uno che lo vede come Renato Qualcuno lo vede come Renato Quindi? Beh Perché? E' molto semplice C'è un motivo Vediamo delle cellule Sì Cellule medioevo Eh? Dei pianeri, orbite Oppure anche feromoni Aspetti aspetti No Cosa? Se non che gli antichi egizi Cosa? Cosa di? Ma anche Una punizione al limite dell'aria Probabilmente il problema No Non si è capito Non si è capito perché lo vediamo Franco Di Franco Non si è capito Forse è complicato ma No No Non si è capito Di Franco Eh? Cosa? C'è da chakra Ah il chakra Un chakra che non è allineato Ah questo si è vero Si è un hit Quindi noi riallineeremo chakra Ok Allora Sì Allora Franco Tu c'è avuto un trauma Sì maestro Quando ero piccolo Mio nonno mi ha abbandonato sul molo Ma povero Hai visto come ha fatto no? Cosa? Cosa? Conscienza No C'ha il nonno La gobba E' ritornato bambino A destra A destra A destra Cosa vuol dire a destra? Se c'entra a destra maestro scusi Guardi che Come sta maestro? Cosa gli è venuto? Una bunda d'ernia Ah Sicuro che faccia bene questa disciplina Sì La vediamo un po' appesantito Va bene Allora Maestro guardi che Si ricomponga Ecco Perfetto Allora Adesso visualizza il nonno Ecco risolviamo La gobba Il mento Gli antichi egizi Fatti l'immagine Il nonno Che cosa c'entrano? Che ti abbandona sul molo Sì Era quello Il trauma Chiudi gli occhi No Tieni pure aperti Tanto uguale Ma come uguale? Ci associ Un colore Sì Che colore? Associa Giallo Giallo Associa Associa Una musica Un cantante Un quartiere di Pesaro Ma come si fa ad associare un quartiere? Ma cosa dice? Ma è sicuro? Smacchia Ma non si può Come ti senti? Meglio Meglio Ma non è possibile La tua vita Ma come fa? Ma come fa? A sentirsi meglio Smacchiando La tua vita È drasticamente cambiata Ma non credo Quanto ci ho messo? Otto secondi Va bene Questo è Vasara Questo è il Vasara Come lo vedete adesso? Luigi Aia No Che in tibetano Sì Deriva da lui Che significa fa A e G Che significa Bio Ma no Non credo che Adesso facciamo Il tibetano Facciamo l'om Ah facciamo l'om Bello Che ha? Cosa c'ha maestro? C'ho la bronchitella Ah la bronchitella Tra l'altro è terapeutico Ah quindi? Perché se lo fai bene No Ah Te passa la bronchitella Buono quindi lei Ma io non posso farlo bene Perché c'ho proprio la bronchitella Ah è un circolo Cioè non posso fare una cosa Che mi potrebbe fare del bene Sì Proprio perché non riesco a farlo E quindi questo è un po' Questo è Saskara In Saskara Ok In Saskara Pensavate fosse Vasara No Come ne esco dalla bronchitella Come ne esci? Ci sono due strade Con Mantra, Tantra e Yantra Vabbè Oppure con la Dagi Birina E questo è Vasara Questo è Vasara Adesso facciamo Saskara E' molto meglio la E vabbè Facciamo Saskara adesso Vogliamo risolvere il problema Non guardi il telefono però Perché non puoi un po' la magia Il problema di voi due Sì Ah Se non ho capito male Non riuscite a fidanzarvi Sì? Sì Esatto Esattamente sì Voi vi chiamate? Smello Snello Snello E tu? A cosa A cosa A cosa? A cosa perché i suoi Sementichavano il nome Così? Esattamente sì Si chiamava A cosa Ho capito scusi Va bene Il problema di Snello E A cosa A cosa non si può E che si frequentano Ma non si piacciono Sì esattamente A me lui non piace Non ti piace Non ti piace no Non si piace no Ma questo è Basara no? Ma è sicuro? Tantra 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 Va beh Nell'anno 1000 Il comportamento La rente Sascara Cioè tu La vedi bella Ma lei ti vede brutta Esatto Scusa Snello Da quant'è che sei così brutto Da dopo che ho finito il militare io Ecco ma povero Militare Mento così Ma tutto nel mento La detta Sergente Il nonnismo Adesso alzatevi No ma state sedutando uguale Ma non può essere uguale scusi Adesso Tu A cosa? A cosa? Hai l'immagine di Snello Sì Associaci Un nome Un colore Città Fiori Frutta Del bicarbonato Del bicarbonato? Fatto? Sì Adesso Smacchia Smacchia questa Lava tutto col bicarbonato Sì Fatto? Sì Sì Fatto A cosa? Come ti senti? Piace Snello? È la cosa più bella del mondo Ma non è possibile Lo trovi quotidianamente attraente Sì Ma Scusi maestro Ma questo è Sanskara O Vasaya? Eh Sono grandissima Puttanata Andrea Zalone Cristina Paola Nazareno E Cargiulo Antonio Come on y'all